dove lo porti dove state andando su e giovanni 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 paolo che c'è un cicciottello attenta salvato l'attene manino bene ogni sotto lega sotto al culetto di mantenere andiamo 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 a lavorare adesso andiamo solo a comandare poi andiamo a lavorare andiamo a comandare 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 andiamo a comandare con giovanni il bambino con l'anima nanna con i tre mescoli tutti quanti fiammi ma che fiammi ma che fiammi ma visto che giornata fresca che c'è oggi ho visto delle onde enormi salvato non lo mantenete per le punte delle braccia salvato ti cade manchi can che fa non lo devi mai mantenere per di qua un attimo e aspetta io la basso io la maglietta dove gliela hai alzato la maglietta no lo devi mantenere sempre per sottolineare al culetto ma è solo per le braccia ecco ecco giovanni subito facciamo subito facciamo mantieni sotto al culetto sapete manchi cani ti scappa dalle mani altrimenti che questo si muove non è che si sta fermo non è una bambola questo è un bambino vero te ne sei accorta sì aspetta però metti braccio così che mi fai male aspetta amore metti vieni qua zio ho fatto un servizio fotografico che non finisce mai salvedo ho fatto già 200 della foto e video come la tieni bene ma se c'è la riana e quando te la faceva prendere un minuto stava già urlando come una pazza che la voleva lei come la tieni bene come la tieni bene come la tieni bene come la tieni bene Grazie a tutti.